I just wanted you to... Piace, prossima settimana Altro video E probabilmente Anche il best moment dei Twitch Vediamo se ci riusciamo Altri 500 mi piace ragazzi Forza Ora tornate a noi Ho modificato i miei settaggi La mia sensibilità Questa per me è la migliore sensibilità Almeno quella con cui mi sono trovato bene io Perché ricordo a tutti Vedere le sensibilità degli altri È una cosa buona per farsi un'idea Di quanto deve essere la sensibilità E tante altre cose Ma ragazzi Ogni persona ha una sensibilità propria Voi volete trovare la vostra Andate in caccia terroristi Abituatevi Partite con una sensibilità bassa E poi aumentatela piano piano Così da abituarvi Senza che ve ne rendiate conto Senza che vedete magari La mira che da lenta Diventa veloce improvvisamente Lì mirate sicuramente Comunque il mio consiglio È tenete alta La sensibilità Quella orizzontale E molto più bassa Almeno la metà Quella verticale Perché quella verticale Comunque è quella per mirare in testa Quindi ovviamente Deve essere più bassa Rispetto all'orizzontale Perché ad esempio Se un nemico sta qui E voi state mirando qua L'orizzontale vi serve veloce Perché almeno Tenete subito da lui Il problema per la verticale È che se la mettete troppo alta Fate la stessa cosa Ossia che da così Andate così E da così Andate A fa culo Quindi se voi La mettete un pochettino più bassa Mirate subito in testa Quindi Tenete alta l'orizzontale E almeno la metà La verticale Questo è il mio consiglio Poi Ognuno è libero di Scegliere la sensibilità che vuole Gente che gioca anche con 100-100 E si trova benissimo La mira di precisione Ragazzi Questa è un po' Particolare Io non posso darvi consigli Vi dico soltanto Io ce l'ho bassa Ce l'ho a 26 Ora l'ho messa a 26 Addirittura prima ce l'avevo a 21 Ora l'ho aumentata un pochettino a 26 Perché magari mi risultava un pochettino Troppo Troppo bassa La zona morta Io ce l'ho a 5-5 Nel video lo vedrete 10-10 Ma non è così È 5-5 E niente Vi lascio il video Ci saranno Ci facciamo anche delle risatine Con questo video E ci vediamo questa sera Ore 9.30 Su Twitch Per andare a cercare Gli spottini insieme Inviterò molti di voi Per fare delle personalizzate In cui andremo a cercare Gli spottini Anzi Probabilmente partiremo oggi Con una mappa Poi gli altri giorni Andremo a proseguire con le altre mappe Va bene Il link di Twitch È in descrizione Ci vediamo Questa sera Ciao ragazzi Grazie ancora Quanto hai di sens Si si è perso Ovviamente Questa nuova sensibilità Ragazzi 35-10-10 20-day Oh dietro Dove? Bandiera 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 Io so freddissimo Occhio essere Oh è bello Iaco No te sarai No te sarai Guardate Dietro 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 Bandiera 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 Bandire bomba Bandire bomba Bandire bomba Muore Ok bomba bomba Scarede gialle Scarede gialle Scarede gialle Eh? Tra il centrato Guarda dopo il venga vale Bravo Bravo Tu sugi sta Unoscaredi gialle Attissima Che vi sa Chiocelo 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 Qual è chiocelo È intatissima Chiocelo Ok Sperimento! 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 Ma che sta sensibilità? Ma che è sta sensibilità? Oh! Vai! Picca, picca, picca! Vai, vai! Planta, planta! No, esco la chioccia! Non è morto! Bravi! Easy! Nuova sensibilità, boys! Ma... Ma... ... ... ... ... ... Rega, rega, rega! Stanzino, stanzino! Muro di vita! Muro di vita! Zucchia! A me! ... 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